Salve ragazzi, io sono Zero e oggi siamo su Strider Ovviamente siamo su Strider La demo di Strider Cosa pensavate che fosse il gioco? No, per carità Comunque, siamo sulla demo di Strider Un gioco action In cui la storia non c'è Tecnicamente, fondamentalmente la storia non c'è Siamo un ninja che spacca qui la gente con le spade Strider Ecco, siamo questo, molto bello Il gioco in 2D Cioè, così Andiamo a sinistra a destra Ecco, siamo dei ninjaku perfetti, ma guardate Non ci stanca neanche un po', ma Ecco, sbudeghiamo la gente, saltiamo Sbudeghiamo mentre saltiamo Tante cose divertenti, in poche parole Come si correva? Mi sono scordato Ah, no, non si corre nel gioco, giusto Voi basta che premete sempre quadrato E il gioco è fatto, guardate Beh, un po' saltare ci vuole, sapete com'è Però Ecco, qui Anche i triangoli invece sono gli attacchi potenti Poi, che atto ci sta Non mi ricordo Ecco, saltare e quadrato Ah, quelli che sono per la vita quando Mi toglieranno un po' di vita E... momento Ah, si aggrappa anche le pareti perché lui è un ninja, ovviamente E spacca i culi Salta, attacca su, bravo Attacca su, ok E quindi dicevo Dicevo niente perché Non ho un cazzo da dire Spacca tutto, saliamo qui dentro E scendiamo qua Cos'è? Torretto Merda Ok, ho distrutto una torretta Che genere Salto e scivolata Come si scivola? No, ah, giù e x, ok No, 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 no Scendi, scendi C'è, porca Ah, ok Capisco Perfetto Ho compreso Così mi vado in mezzo alle gambe E lo stupro analmente Sapete com'è, no? Aspettate Spesso, spesso Eeeh Ho notato che c'è Ecco, vedete Questo è stuprare analmente Uff, questa mannonna La facciana Ok Ora bisogna andare a fare in culo dall'altra parte Eeeh 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 Ho sbagliato strada Dove c'è Sto andando precisamente Ah, qui Ah, da qualsiasi altezza che buttate A meno che sotto non c'è il fondo Non creperete mai Sì, noi facciamo una strage A furia di quadratare Schiatta Merda Ecco, così Bravo Salta un po' più su Ok Ecco, ma guardate che figone Sembra proprio quello Uno di Non so My Little Pony Oh Ok, basta Non so cosa stia facendo È un po' Spesso, spesso, spesso Fermo, fermo Sì La vita è certo Che la recupero Cazzo Ne, 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 ne Ne, 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 ne Viva Natale Viva la morte Ah, se state qui Ovviamente fate su X E lui entra dentro Quindi Fantastico, vero? Ciao Ciao Ok, di lì mi pare che ci fosse un coso in scivolata Perché c'è chi tu fai giù e X No, non c'è un cazzo Dobbiamo salire su Sali, sali Bravissimo Ma Non sono mai stato più fiero di te Sali Sali Ok, bravo, bravo Complimenti ninja Ok Sotto E spacca i culi Questa non si può aprire perché c'è un pugno caricato Dove si va? Su Logico Poi, ciao Acquisisci il punto di carica Ovvero la, quella da vito superiore ovviamente Ora dobbiamo andare a prendere un altro potenziamento per poter andare avanti Ah, che due coglione Vito al Gito Questo è il trucco Andarci dietro e fotterlo di brutto E' tutto bello Sei partuto Mio Dio ma E' potente il nostro ninja ragazzi Abbiamo aperto una fortuna e abbiamo preso Cyber caricato Ah, ecco, questo qui Che fa Fa questo e apre le porte Utile, no? Ah, e sfondo agli scudi Fatti di marmellata Ma non sapete, questi scudi sono fatti di marmellata O fette biscottate Dipende dalle preferenze Ed è molto utile se è usato In modo corretto, diciamo così Prendiamo un po' di vita perché la vita non fa mai male Ovviamente ci sono anche segreti nascosti in giro Ma sta a voi scoprire dove sono Oh, questo non l'avevi usato prima Ah, è morto Eh, vabbè Oh, la Peppa Peppa Pig No, voglio Voglio leggere i fumetti Che se ne fotte di Di tutta questa violenza No, ma tu mi fai male Non sono bravo in questi giochi Porca Giovanna Ragazzi, ragazzi No, 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 no Ragazzi Cazzo Porca Troia Eh, ragazzi Un po' di Mmm Come posso dirvi Di pietà Come altro posso chiamarla Se non pietà Ok, ci fa ripartire da qui Quindi no problem Ma Potremmo avere qualche problema A sconfiggere quei due Mostardacci Sì, perché sono solo mostardacci Ora Apri questa caspita di porta E andiamo a farci No, no, no Ma perché mi fai male ora Dove, dove, dove Un pezzo di merda No No, maccato Yeah, baby Ok, ok, ok No, no, no Spendi la vita, Ciccio Oh, mio Dio Santissimo Geppetto Alla mano No, non voglio No, no, no Ma porca Troia Allora Dobbiamo Riuscire a battere Questi due Finocchietti di merda Prima che Loro battano Il culo Al nostro Amato Ninja Quindi Sponda E Boom Ok Prendi E prendiamone poche Stavolta C'è una Perché la vita ce l'abbiamo E i nemici sono tanti Fa un culo Ma Cacchio di cosa Ma muori Per la miseria No Stavolta Lo sto Ho fatto il culo Possiamo andare avanti E Vabbè Prenderci la vita Ma la vita ce l'abbiamo Già Quindi Vabbè Ho preso lo stesso Passiamo avanti E vediamo che altro dobbiamo fare Ah Sì Vabbè Logico Ora Oh Amico Fatelo dire Se è un genio Della 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 mamma Un genio Della mamma Proprio Salve Durdo Bozz Durdo Bozz Oh Se non altro Hanno bei nomi Vai Ecco Lo sto Si tratta di far vedere Delle scene Dove noi Casseggiamo Sul drago volante Mi spacchiamo il culo Probe del genere No Quindi La demo Finisce Quando noi Uccidiamo il pago Quindi Ah Uccidiamo il drago E qui Ci sono questi E così Ecco Quelli che Sumitano Non potete Toccarli Altrimenti Creperete Come delle merde Vedete Bene Bene Su Su Perfetto No No Ho sbagliato Ho sbagliato Cacchio Ok Ok So 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 Da po' cazzo Sbagliato Non fa niente Ma quanto è lungo Sto drago Per sapere No Vai col piscino Col piscino Infligili d'orore Sangue A te Ok Infligili d'orore Se si incazza Però poi Non è neanche un fatto Giusto No Oh Eh Vabbè Certo Amico Non credo che Ah Se si ferma Sì Ma se Non si ferma Non credo ce la farai Ah Consiste Devo fare questo In poco parola Vabbè Non è che siamo No 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 Ok Dobbiamo Accordarci Di non saltare E E E E Torrente I migliori Sempre In qualsiasi Gioco Che siano Parte Cattiva Spacca tutto Colpo caricato Colpo caricato Spacca Colpo caricato Colpo caricato Ok Ok Ci incazza Pare Sembra che ha perso Un capello Forse il capello L'ha perso E adesso c'è la parte più difficile Ragazzi Osservate Ok Ma se possono No Non si possono toccare Prove Capisco Ok Ok Possiamo farcela Sono passati i missili Quindi Li proviamo Ah C'è Come se non fossi già abbastanza indietro Certo Ma Ma sì Ma perché no Ma da Guardate Sfonda Oh no 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 Salta Bravo 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 Sfonda Ma 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 Stacca Zitti Idioti L'abbiamo Fottuto Vai Vai Questa è il ninja Provetto ragazzi Il ninja che tutti vorrebbero Si sblocca il gioco Ma vai a carriere Comunque ragazzi Questa Si è stata carina Sinceramente Ci avevo già giocato una volta Però E' bello Comunque Questa è la demo di Strider Spero che questo video che a CG vi sia piaciuto Anche perché abbiamo ucciso un drago di 500 tonnellate Con un solo ingetto Che è capace Manco di fare quello che fa Tiff No non è vero Fa molto di più Tiff Colpisce un corpo Inerte Che Diciamo Non può muoversi E è morto E lui Infierisce sul cadavere Ma comunque Spero che E poi E4 E vicious C'è 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 C'è